Oggi si festeggia San Leopoldo Mandic, il frate Cappuccino costretto dalle circostanze e dalla salute malferma a dedicare tempo e passione ed energie al sacramento della confessione che finì col diventare un profondo e discreto conoscitore delle anime a cui i fedeli non vollero e non seppero mai rinunciare. La storia dell'umile e piccolo frate, pensate era alto in tutto, un metro e quaranta centimetri, inizia in Dalmazia nell'anno 1866. Bogdan, questo è il suo nome di battesimo, nasce a Castelmovo, alle bocche di Cattaro. Sedicenne entra nel seminario dei Capuccini di Udine e a Bassano pronuncia i voti assumendo il nome di Fra Leopoldo. Quando nell'anno 1890 diventa sacerdote ha un sogno e il suo sogno è questo, spendere la vita per riconciliare con Roma i cristiani orientali separati. Il più piccolo frate dell'intero ordine Capuccino percorre tra i primissimi il sentiero dell'ecumenismo. Vuole andare in Oriente ma la guerra del 1915-18 e tante altre circostanze lo costringono a rimanere a Padova. Nell'anno 1923 lo destinarono a Fiume come confessore dei cattolici, di cattolici slavi. La missione in Oriente sembra farsi realtà per lui ma ad impedire la sua partenza interviene lo stesso vescovo di Padova, il grande Monsignor Elia dalla Costa che dice ai padri Capuccini la partenza di padre Leopoldo ha destato in tutta la città un senso di amarezza e di sconforto. E allora i padovani riescono in quel modo a recuperare il piccolo confessore e padre Leopoldo comprende che il suo Oriente è Padova. San Leopoldo passa la giornata ad ascoltare la gente e a riaccendere nelle anime il cuore, la forza della speranza. Per 40 anni trascorre ore e ore nel confessionale, talvolta fino a 15 ore al giorno. Possedeva il dono della profezia e anche il dono di leggere nel profondo dei cuori. Ha avuto anche le stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. Aveva un'artrite deformante alle mani e anche una notevole difficoltà nel parlare tanto che i suoi confratelli talvolta lo deridevano e lo deridevano perché era balbuziente. Una salute malferma la sua, i suoi occhi costantemente arrossati, ma tutto ciò non scoraggia il frate che brucia tutte le sue energie dispensando la misericordia, il perdono, la compassione del Signore a tanta gente. Non è però un tipo bonario per natura, anzi è un tipo foccoso, è capace di scatti talvolta aspri e inattesi, è un po' come il suo compatriota, ricordate San Gerolamo, colui che tradusse la Bibbia, il grande San Gerolamo. È come lui chiedeva al Signore il dono della calma, tanto che ripeteva spesso nella sua preghiera, oh Signore, abbi pietà di me che sono d'almata. e questo ci conforta per dire che non è il carattere che ci rende graditi a Dio, ma la fede e il cuore. A quanti erano in afflizione il santo diceva, fede, fede, abbiate fede in Dio che è medico e anche medicina. E ripeteva ancora, abbiamo in cielo un cuore di madre, la Madonna, madre nostra che ai piedi della croce soffrì quanto possibile ad una creatura umana, comprende i nostri dolori e ci consola, una grande devozione la sua alla Vergine Santa. Bene, San Leopoldo muore a Padova il 30 luglio dell'anno 1942, dopo aver passato 40 anni in confessionale. Ed è per questo che è il protettore dei confessori. Al santo che è stato fatto dal divin Salvatore, strumento perfetto della sua infinita misericordia nel sacramento della penitenza, i fedeli si rivolgono per chiedere la grazia, la grazia di confessarsi spesso e bene, per poter avere sempre l'anima monda da ogni colpa e per poter realizzare la perfezione alla quale Dio chiama ognuno di noi, chiama ogni cristiano. A San Leopoldo, oltre che la guarigione, i fedeli chiedono di essere liberati da tante pene e afflizioni che da ogni parte ci opprimo e chiedono di avere la forza di sopportare tutto con pazienza per acquistare i meriti del cielo. Paolo VI, beatificandolo nell'anno 1977, ha detto di lui la vox popoli sulle sue virtù, invece che placarsi col passare del tempo si è fatta più insistente, più documentata e più sicura. La sua tomba si trova nel convento dei Capuccini di Padova. Fu aperta, pensate, 24 anni dopo la sua morte e si trovò il suo corpo intatto, incorrotto. Papa Giovanni Paolo II nel 1983 ha collocato padre Leopoldo tra i santi e allora noi invochiamo questo grande santo con la preghiera che rivolgiamo, data la sua devozione a Maria, alla Madre della Misericordia. O Maria, Vergine Immacolata, puro cristallo per il mio cuore, tu sei la mia forza, o ancora potente, tu sei lo scudo e la difesa dei deboli cuori. O Maria, tu sei pura ed impareggiabile, Vergine e Madre insieme. Tu sei bella come il sole, senza alcuna macchia, nulla è paragonabile all'immagine della tua anima. La tua bellezza ha affascinato il tre volte santo, sceso dal cielo, abbandonando il trono della sua sede eterna, e preso corpo e sangue dal tuo cuore, nascondendosi per nove mesi nel cuore della Vergine. O Madre, o Vergine, nessuno riesce a comprendere che l'immenso e Dio diventa uomo, solo per amore e per la sua insondabile misericordia. Per merito tuo, o Madre, vivremo con Lui in eterno. O Maria, o Vergine, Madre e Porta del cielo, attraverso te ci è venuta la salvezza. Ogni grazia scorga per noi dalle tue mani, e solo la tua fedele imitazione mi farà santa. O Maria, o Vergine, o Cilio Pubello, il tuo cuore è stato il primo tabernacolo per Gesù sulla terra, perché la tua umiltà è stata la più profonda, e per questo sei stata inalzata sopra i cuori degli angeli e sui santi. O Maria, dolce Madre mia, affido a te l'anima, il corpo ed il mio povero cuore. Sii la guardiana della mia vita, e soprattutto nell'ora della morte, nell'ultima battaglia. Amen. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.